Buongiorno dal TG4. Allora, oltre 5 mila miliardi di risparmi. Gli italiani sono delle formichine, mettono a parte tanti soldi e hanno paura adesso che qualcuno con la patrimoniale possa magari tassarli. Quindi la Federazione dei Bancari avverte la politica, avverte il governo, no a tasse patrimoniali. Da dieci anni, da quando il Presidente Draghi annunciò il famoso whatever it takes per salvare l'euro, i risparmi degli italiani sono quasi raddoppiati, passando da 3.500 miliardi di allora ai 5.200 miliardi di oggi. Il patrimonio degli italiani aumenta. Secondo la Federazione Autonoma dei Bancari, la ricchezza è cresciuta di ben 1.700 miliardi nell'ultimo decennio. La liquidità resta la forma preferita di allocazione del risparmio, spiegano. Il contante è cresciuto di 509 miliardi a quota 1.629, con la percentuale di denaro lasciato su conti correnti e depositi stabile al 31%. In forte calo le obbligazioni, mentre crescono le polizze assicurative al 23% dei risparmi. Complice anche la pandemia che ha contratto le spese, gli italiani hanno preferito mettere i soldi da parte e rimandare il rischio a tempi migliori. Nel 2021, anno di avvio della ripresa economica, poi frenata con l'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, il risparmio delle famiglie italiane ha generato un flusso di 320 miliardi di euro. Gli italiani difendono i loro beni a denti stretti, nonostante l'inflazione e gli stipendi bassi che penalizzano la liquidità. I bancari lanciano un appello alla politica, con tanta ricchezza dormiente non bisogna lasciarsi tentare dalla patrimoniale. Rivolgiamo quindi un appello alle forze politiche perché tutelino con proposte ed iniziative i risparmi degli italiani senza ricorrere a forme di tassazione come la patrimoniale. Grazie. Grazie.